Dopo l'impegno televisivo, adesso musical. Cosa significa questo percorso? Per la precisione era un docufilm, che in questi giorni viene distribuito in DVD, che è già uscito al cinema, era una produzione indipendente, quindi non è andato in tantissime sale, però ha avuto un bel successo. Adesso siamo alle prese con questo musical. È una bellissima esperienza, sono molto contento di interpretare nuovamente padre Pino Puglisi, che era un uomo dotato di una grande profondità, ma anche di una grande gioia, la grande capacità di saper sorridere. Non a caso il precedente docufilm si intitolava proprio L'ultimo sorriso. È uno spettacolo molto bello, perché vuole ricordare proprio padre Pino nel venticinquesimo anniversario della sua scomparsa. E lo si fa nella maniera forse anche più consona, cioè attraverso la leggerezza, la gioia, per trasmettere un messaggio che era il suo grande messaggio d'amore, pur nella profondità di tutti i grandi messaggi che ha lasciato a tutti noi. Uno fra tutti, quello che normalmente conosciamo, se ognuno di noi fa qualcosa, allora insieme si può fare molto. Lui era fortemente convinto di questo. Interpretare lui, io non ho conosciuto padre Pino Puglisi, però sia per il docufilm sia per questo musical ho sentito e ascoltato tante testimonianze, soprattutto della sua famiglia, i suoi fratelli, la gente che l'ha conosciuto, la gente che gli è stata accanto, addirittura chi è stato proprio sino all'ultimo, chi scoprì il suo corpo, come sappiamo all'inizio non sembrava che fosse stato ucciso da un colpo di pistola, si pensava addirittura a un infarto perché non c'era traccia di sangue nel suo corpo. Soltanto dopo, al Buccheri Laferla, dopo un po' i medici si accorsero invece che era stato un omicidio. Lui ha lasciato un messaggio molto forte e interpretare lui a me mi ha dato, mi ha arricchito, mi ha arricchito fortemente come uomo, questa sua voglia di credere, di credere, di credere nella grande forza del bene, questa grande forza del bene che è dentro ogni essere umano. Lui diceva se vogliamo cambiare le cose appunto dobbiamo ognuno fare la propria parte e soprattutto per contrastare il male diceva non basta prendere una croce e gridare vada e retro Satana, no. Per contrastare il male occorre invece far nascere quel bene, far rinascere quel bene che è racchiuso dentro ogni uomo, dentro ogni essere umano. Pirandello parla di maschera, personaggi, conoscendo ovviamente la tua professionalità come uomo, come ti ha contaminato padre Pino Pugliese? Mi ha contaminato positivamente perché anche in altre interviste l'ho detto, ho detto ha cambiato la mia vita in meglio. Perché viaggiare dentro un uomo così grande è un bel viaggio, mi mancano addirittura le parole perché c'è veramente una bella emozione e soprattutto un flusso di ricordi, di sue parole. Pensa che in questo testo, in questo musical sono 35 pagine di copione ma i suoi monologhi sono ben 11 e più della metà del musical è ovviamente affidato alla sua parola. Quello che farò è un po' quello che ho fatto anche nel docufilm, cioè dimenticarmi di me stesso per offrire a questa sua grande figura il mio piccolo modo di essere attore, cioè offrire la mia mente, il mio cuore, le mie braccia, la mia fisicità, il mio volto. A chi è rivolto secondo te questo musical? Beh secondo me è rivolto a tutti. È rivolto a quelli che lo hanno amato e lo amano ed è rivolto a quelli che non lo hanno capito e non lo capiscono. È rivolto a chi crede e a chi non crede, a chi ama e a chi non ama. E probabilmente il poter partecipare a un evento teatrale di questo tipo servirà perché come sempre accade il teatro è lo spazio della riflessione quando magari normalmente nella nostra vita non abbiamo tanto tempo per riflettere. E qua insomma si faranno delle belle riflessioni perché sono riflessioni che nascono dal sentimento, dal sentimento di una grande anima. Insomma questo è un po' il punto. E questo progetto artistico come vedi questa collaborazione con questo gruppo di artisti? Ma guarda è meraviglioso perché qua si è creata una compagnia dove la gioia già nella quotidianità è condivisa e ho dei compagni di viaggio straordinari iniziando da Enzo Paloturchi e tutto dietro questo progetto e tutti i miei compagni, un corpo di bello fantastico, degli attori bravissimi, cantanti che poi ascolterete veramente molto 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 bravi. È bello perché stiamo bene, cioè quando si lavora dentro una dimensione di gioia sicuramente i risultati arriveranno ma poi come è giusto che sia, l'ultima parola aspetta sempre al pubblico. E questo pubblico vogliamo ricordare quando sarà? Ricordiamo che mi viene un po' tanta di emozione, malgrado siano più di 40 anni che faccio questo mestiere debutterà lo spettacolo il 14 a Piazza Politeama dove si prevedono circa 60.000 presenze ora normalmente questi numeri li fa un concerto rock o quant'altro. ovviamente non sono 60.000 persone che vengono per noi ma sono lì perché come sappiamo sarà l'incontro con i giovani, l'incontro del Papa che verrà qui a Palermo però in ogni caso noi dovremmo fare la nostra parte, insomma magari cantare, avere uno strumento in mano e affrontare 60.000 persone non dico che sia più facile ma forse più abbordabile o affrontarli con le parole e con le chiacchiere, insomma sarà una bella impresa che sino ad oggi, quindi il destino ha voluto che ci fosse questa bella occasione. Poi saremo, il 15 faremo ovviamente una piccolissima, quasi una sorta di trailer di questo musical proprio per il Papa e la sua santità e poi dal 15 fino al 19 di settembre saremo invece al Teatro di Verdura diciamo che è il luogo più consono per il teatro e per il musical.